Eccoci qua, benvenuti e bentornati nel mio canale e in questa live reaction di Lecce Monza. Sta per iniziare una partita importantissima, sicuramente difficile perché affrontiamo un Monza che sì non ha più niente da chiedere dal campionato, ma nella conferenza stampa di Mr. Paladino è stato chiaro, ha detto che in queste ultime cinque partite devono dare il massimo sempre per concludere la stagione al meglio. Dall'altra parte il nostro Lecce che è a caccia di punti salvezza, punti che sarebbero fondamentali per archiviare forse già oggi la questione salvezza. Staremo a vedere, la partita sta per iniziare, i calciatori stanno per entrare in campo, forza Lecce. Prima di continuare a vedere il mio video, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, lasciate tanti mi piace in questo video e commentate, commentate, commentate. Ecco qua, siamo all'ottavo minuto. Dorgu, Dorgu, cross, Blen, tiro fuori, fuori il tiro di Blen. Bravo capitano, bravo. Gallo, passa in mezzo, si gira, Christovic, chiede un fallo di mano, ma non c'è niente, Dorgu in mezzo, non arriva, Christovic, non ci arriva, non ci arriva. Attenzione adesso al Monza pericoloso in attacco, attenzione, attenzione, tiro fuori dall'aria, mamma mia, mamma mia, vicinissimo al palo di Falcino. Gallo oggi non lo ferma nessuno, attenzione, Christovic, Christovic li supera tutti, li supera tutti, passa in mezzo, Uden, forse tirano il difensore, ancora Uden, ancora Gonzales, mamma mia, mamma mia, toglietevi, toglietevi, ci sono tutti, tutti, tutti davanti, un muro, un muro. Finisce il primo tempo, Lecce-Monza, siamo sullo 0-0, partita che non sta dando tante emozioni, abbiamo visto insieme un tiro del Monza vicinissimo al palo di Falcone, un paio di tiri in porta pericolosi del Lecce, quello di Blen, e quei 3-4 tiri, uno dietro l'altro con il muro del Monza che abbiamo appena visto, che ha chiuso la porta e poi non si è visto nient'altro, quindi direi una partita in questo momento che va verso uno 0-0, forse già scritto. vediamo il secondo tempo come va, iniziato il secondo tempo, attenzione, attenzione, Raffia ruba palla al limite dell'aria, tiro di Christovic, vicinissimo al palo, mamma mia, Christovic era vicinissimo a fare il gol, vicinissimo, vicinissimo. Attenzione a Jean-André, non lo ferma nessuno, Jean-André, passa a Christovic, Christovic al limite dell'aria, tira! Vicino al palo, un'altra volta Christovic, vicino al palo. Bella palla per Gallo, e da solo, entra in area di rigore, una prima finta, vai Gallo, vai, lo mette per terra, passala, tira l'opa! No, 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 sul portiere, la dovevi passare, forse, la dovevi passare, la dovevi passare. Attenzione al Monza, attenzione al Monza pericolosissimo, siamo all'ottantottesimo, mamma mia, sul dischetto, attenzione al volo col panino, mamma, 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 col pani vicinissimo. La partita che ormai si sta andando a chiudere su uno 0-0. Oh, Christovic! 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 Che gol ha fatto? Stavo dicendo che ormai la partita si stava andando a chiudere sullo 0-0. Mamma mia, che gol di Christovic! Mamma mia, che gol di Christovic al 92esimo! Mamma mia, che gol di Christovic! Sarebbe una vittoria importantissima questa, importantissima, importantissima. Attenzione! Oddio! Oddio calcio di rigore! L'arbitro ha fischiato calcio di rigore! Vediamo! Venuti, ma di braccio! Venuti, ma che cazzo fai così? Che cazzo fai, ma che cazzo fai così? Vediamo sto calcio di rigore! Batte! Gol! 1-1 Portiere da una parte, Falcone da una parte, palla dall'altra, 1-1 Lecce-Monza 1-1 Stavamo festeggiando, stavo ancora festeggiando il gol di Christovic che mi viene addosso questa secchiata d'acqua fredda sulla testa per Venuti che salta in una maniera assurda e fa questo fallo di mano, calcio di rigore nettissimo secondo me per... poi l'andremo a rivedere bene, ma calcio di rigore nettissimo Finita! Triplice fischio di Santoro, la partita finisce con l'1-1 comunque applausi, applausi, applausi comunque per un bel Lecce non era una partita facile contro un bel Monza che è una squadra tosta che sta facendo un ottimo campionato prendiamoci questo pareggio perché è un buon pareggio i tre punti ovviamente sarebbero stati fondamentali nella mia testa sul gol di Christovic passava solo una parola mi passava solo una parola che era quella della salvezza comunque, ormai già da domenica scorsa tutti ci davano per salvi ma... andiamo calmi rimaniamo con i piedi per terra parliamo di salvezza solo quando la matematica ce lo dirà grazie a tutti per l'attenzione e per aver visto questo video sulla live reaction di Lecce e Monza ahimè finita 1-1 all'ultimo avrei preferito forse uno 0-0 perché pareggiarla così dopo che stavamo festeggiando un grandissimo gol di Christovic e dopo subito all'azione dopo calcio di rigore per in Monza e 1-1 avrei preferito veramente uno 0-0 perché era una partita sicuramente da 0-0 grazie a tutti e forza forza Lecce sempre